Rizzoli Libri e Tele Nuovo presentano le selezioni regionali del 31esimo Zecchino d'Oro. Per iscrizioni rivolgetevi ai numeri telefonici in sovrimpressione. Se segue la felicità! La canzone d'autrice, la voce femminile nella canzone d'autore, il 29-30-31 agosto al Teatro Romano, con Alice, Grazia De Marchi, Nada, Lucia Poli, Maria Carta, Teresa De Sio, Rosanna Ruffini, Raffaella De Vita, Grazia Di Michele, Fiorella Mannoia. È un'iniziativa dell'Assessorata alla Cultura del Comune di Verona con la consulenza del Club Tangle. Entrate nel mondo d'oro di Amighini, ricco di emozioni e tentazioni. Amighini, da sempre e per sempre, cose preziose. Gino e Giorgio Amighini vi invitano nell'unica sede rinnovata in Piazzetta Monte a Verona. Entra nei classici di Giovanni Rana. Scopri la pasta fresca ripiena. Spalanca gli occhi. Prepara la gola ai sapori prelibati, freschi, curati con l'arte più fine. Trita, grattugia, fetta, impasta? È giunta l'ora di buttare la pasta. Scopri anche tu le delizie della pasta fresca ripiena nei classici di Giovanni Rana. Il panettiere è un nuovo elettrodomestico che usa solo ingredienti genuini e naturali per farti un pane genuino e naturale. Il panettiere lo programmi tu scegliendo il pane che vuoi. E lui lavora anche di notte per darti, ogni mattina appena sveglio, il pane fresco ancora caldo. Il panettiere impasta, lievita e cuoce. 50 all'80%. Aperto la domenica. Dai concessionaria. Ma non la facciamo ancora? Sì, sì, sì. Dai concessionaria Austin Rover Metro. Un milione e mezzo di supervalutazione dell'usato. Dove vai? Ma dove vai? Fino alla fine del mese dai concessionari Austin Rover. Alla Verauto. Strada per capitato di Verona. È il momento migliore. Nei negozi Pittarello è tempo di salto. Calzature Pittarello. La qualità è sempre più conveniente. Pittarello. Pittarello è la qualità. Da sabato 20 agosto, colpo grosso da Giorgio Sport. Sconti dal 40 all'80% su tutti gli articoli, sia estivi che invernali. Solo Giorgio Sport può darvi una convenienza così grande. Giorgio Sport è adatto. Da tutta Europa, Tagicar. Veicoli industriali. Il meglio dall'Europa per scegliere il tuo veicolo commerciale ed industriale. Veicoli nuovi ed usati, garanzia fino a 12 mesi, pagamenti agevolati e in leasing. Permuta con il tuo vecchio usato. Carrozzeria, officina, magazzino ricambi, Tagicar. A Mozzecane, Verona. Ma quanto è grande Tutto Mercato Galvan? Tutto Mercato Galvan è diventato ancora più grande. Ben 12.000 metri quadri di esposizione per trovare mobili, arredamenti completi, elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Ci sono migliaia di articoli delle migliori marche. E tutto a prezzi mai visti. Tutto Mercato Galvan. 12.000 metri quadri di occasioni a Villa Fontana. Ragazzi, via la noia e su col morale. Il parco di Gardaland è aperto anche la notte. Vi voglio protagonisti di magiche serate. Tutti i giorni, dal 9 luglio al 4 settembre, lo spettacolo continua a Gardaland. Tutti i giorni, dal 9 luglio al 4 settembre, lo spettacolo continua a Gardaland. È solo una questione di pelle. Noi usiamo solo la migliore e offriamo alla nostra clientela capi anche su misura confezionati artigianalmente nel nostro laboratorio. Rifiniture accurate, dettagli esclusivi e materiali pregiati sono le caratteristiche fondamentali della nostra produzione in pelle. Fratelli Negro, laboratorio e spaccio a San Bonifacio sulla strada per Santo Stefano di Zimella. E negozio in via Legnago 60 a Verona. I musei di Castelvecchio e la galleria d'arte moderna di Palazzo Forti sono ora aperti dalle 8 alle 23 tutti i giorni, comprese le feste e fino al 18 settembre, con possibilità di visite guidate gratuite. Un nuovo servizio per lo sviluppo del lavoro affidato in gestione a Cooperativa Giovanini, su iniziativa dell'assessorato al lavoro del Comune di Verona. Un vasto comprensorio, Valpolicella-Baldogarda, diviso in 8 distretti e servito da 6 ospedali ed una casa di cura, 5 guardie mediche notturne e festive più 4 stagionali per villeggianti, un centro antidiabetico con 4 sedi, altri centri di medicina specializzata e di aiuto sociale, ed un servizio veterinario di pronta disponibilità notturna e festiva. Tutto questo è ULS 26, in emergenza 24 ore su 24, per la salute del cittadino. Oggi costa sempre di più fare la spesa, ora accompagnami da Rossetto a Lugagnano a fare la mia spesa. Ma tu, quanto hai speso? Solo 89.000 lire! Per la mia grande provvista, trovo tutto a basso prezzo da Rossetto a Lugagnano. E voi dove andate a fare la vostra spesa? Rossetto a Lugagnano vi aspetta con tutto a basso prezzo.